Da 15 anni Asonext è operativa nel settore delle rifusioni con un impianto VAR di fabbricazione ALD. La rifusione VAR si intende alla rifusione di un elettrodo consumabile sottovuoto in una lingottiera di rame. Produciamo rifusi diametro 600 e diametro 900 con la possibilità di implementare ulteriormente le nostre sezioni. Grazie all'altissima qualità del prodotto rifuso siamo entrati da anni nel settore degli acciai per aeronautica e aeronautica spaziale. Sia chiaro, per raggiungere tale pulizia finale del prodotto l'impianto VAR è un ottimo alleato ma è indispensabile comunque partire da un lingotto o meglio un elettrodo iniziale già molto buono. La nostra produzione attuale ci vede presente anche nei mercati già citati, quindi aeronautica e aeronautica spaziale, anche nel settore degli acciai per stampi, acciai inossidabili, con uno sguardo rivolto al campo delle superleghe che Asonext ha già prodotto con successo negli ultimi anni.